Sì, mi nervosiscono. E lui apposta ti dice quelle cose. Caglia! Cioè lo fa apposta. Mi sono pure fatto male, ma manco tiro gli altri, guarda. Che palle, che palle, che palle! Sbagliano tutti! Ho ragione! Sbagliano tutti! Eh sì, ma... E poi quando succedono queste cose per un portiere è difficile. Sì, è difficile agire. Vai, 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 non devo... Sto andando bene, non devo per un errore. Non puoi parlare da solo. Ragazzi, te lo conosciamo. Buona, 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 buona. Vabbè, sempre lì. 13! No, l'hai detto però. Sì, ma sì, perché lo so come va. Ragazzi lo fa apposta Ragnar. Ma pure il patacchino me l'ha detto. Cioè lo sa proprio che lì non si butta, lo fa apposta. Voglio dire una cosa e prometti di non tagliarla. E allora, una cosa è certa. Però Ragnar fa schifo, ragazzi. Ragazzi, io... Un portiere così scarso... Io chiedo scusa solamente per i miei capelli. Per il resto... Grande prestazione. Io consiglio ovviamente per il bene di questa challenge che cambino portiere perché è una roba vergognosa. Non voglio più litigi. No, ma io... Ti ripeto, c'è una cosa che uno deve ammettere è che Ragnar fa schifo. Ragazzi, io lo ripeto. Chiedo scusa solo per i capelli, su questo avete ragione. Ma solo per i capelli. Per il resto io ho... Cioè dai, perché ha parlato bene oggi? No. No. Vabbè, ma... Sopri di cose centrali, sotto le gambe. Grazie. Cioè, come fai a prendere un tunnel da lì? Vuol dire proprio manco a scuola calcio. Guarda, ride pure Fabio che non ha sentimento. Grazie. Come ho detto prima, chi è... Chi è poi vince, festeggia... Chi perde, spiega, ragazzi. Purtroppo bisogna mettersi anche le proprie responsabilità. Sopri di cose.